ma allora la questione è questa che il testo è fatto di due dimensioni qualsiasi testo è fatto di due dimensioni anche questo testo qua è fatto di due dimensioni lunghezza larghezza ma quando tu lo leggi in quel in quel senso che dicevo capisci lo abbiamo già detta questa cosa che c'è la terza dimensione allora tu e questo è il danno di oggi di oggi tu per sprofondare nella terza dimensione dimensione devi stare lì stare in quelle due dimensioni e meditarle nel senso nel senso occidentale del termine stare in quella questione non è uscendo da quella questione è entrando in quella questione più entro nella questione più esco dal concetto ma è stato il concetto anche la parola la pura parola scritta che mi è stata la possibilità di sprofondare oltre la parola al centro della parola nell'abisso della parola l'abisso è solo il silenzio e non ho negato la parola non ho non sono sfuggito alla parola non ho obiettato alla parola ma tu parola sei solo questa parola non sei tutte le altre parole vi ricordate simone vei che l'abbiamo letta no c'è questa frase che per me è stupenda ogni religione è l'unica vera che frase paradossale che senso ha ogni religione è l'unica vera vuol dire che per sprofondare verso quella mistero di cui stiamo parlando tu devi prendere una cosa una questione un testo una verità una religione un quello che sia e ti ci e ci devi morire e ci devi morire in quella meditazione invece oggi mi voglio dilettare perché non voglio mai morire misticamente mi voglio dilettare in cosa leggiamo tostoi leggiamo simone vei guardiamo il cristianesimo che cosa dice e invece il taoismo c'è quello là che è arrivato in città e fa una conferenza andiamola a sentire e via dicendo tutto interessante tutto accattivante tutto assai stimolante ma non cogli mai la cosa da in cui morire surfi surfi ok invece la meditazione è morire la meditazione è morire se noi non accettiamo questa cosa anche la meditazione è solamente una pratica di benessere qui la questione come dice thomas merton la pratica di benessere è per l'io superficiale vi ricordate pirandello è per quell'io l'io sociale quella è la pratica del benessere la meditazione non significa niente del sto bene sto male sto bene sto male è ancora psicologia è ancora prigione è ancora sono sempre nelle quattro mura della prigione l'io della meditazione è prima di sto bene sto male nella pratica intanto che tu pratichi senti momenti di grazia certo poi dopo ritorni nel tuo bla 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 ma senti che la meditazione tocca quel luogo quel quello che lui chiama appunto mistero esistenziale quel mistero che prima di tutte le parole prima di tutto stai bene stai male dei sentimenti delle emozioni di quello stesso di quella cosa stessa che tu chiedi la meditazione la meditazione ancora prima di ciò che io chiedo la meditazione se io questo incontro non lo faccio nel mio percorso di meditazione non faccio meditazione è solo una tecnica è solo una tecnica anche la meditazione vi dirò anche la meditazione che serve per conoscere me stesso è è spazzatura va bene lo so che c'è tantissima retorica sulla perché fai meditazione ma perché voglio fare un percorso dentro me stesso perché voglio conoscere me stesso va bene me stessa va bene può essere un inizio ma conoscere me stesso vuol dire ancora il me stesso che è diverso dal suo se stesso che è diverso dal suo se stesso siamo ancora nella nello psicologico c'è una dimensione ulteriore voglio perdere me stesso perdere me stesso non incontrare me stesso non ritrovare me stesso non sapere me stesso nella meditazione c'è la liberazione dal sapere ok